alberelli di natale metto in ammollo i bastoncini per mezz'ora stendo il primo rotolo di pasta sfoglia su un piano metto la salsa di pomodoro concentrata pizzico di sale parmigiano copro con un altro rotolo di pasta sfoglia sistemo i bordi togliendo l'eventuale pasta in eccesso ed ora faccio delle strisce di circa 2 centimetri di larghezza che taglio per il verso corto asciugo i bastoncini formo l'alberello infilzo con lo stecchino ed una volta fatti tutti faccio cuocere in forno già molto caldo in modalità statica per 20 minuti a 180 gradi ora taglio un po lo stecchino con un pezzetto di formaggio faccio la base metto un'oliva al posto del puntale e guardate che carini